Benvenuti in Eichmuller Eichmuller è un marchio di orologi tedesco fondato nel 1950, specializzato nella produzione di orologi di alta qualità a prezzi accessibili. Con una vasta gamma di prodotti, Eichmuller offre orologi da uomo e da donna, da polso e da tasca, con una vasta scelta di stili e funzioni. La collezione Classic di Eichmuller offre orologi dal design elegante e minimalista, con un'ampia scelta di quadranti e cinturini. Questi orologi sono perfetti per chi cerca un look sobrio ma raffinato. La collezione Sport, invece, è caratterizzata da orologi robusti e resistenti, ideali per le attività all'aperto e lo sport. La collezione Fashion è invece rivolta a coloro che cercano un orologio alla moda, con design moderni e innovativi. Eichmuller offre quindi una vasta gamma di orologi per ogni esigenza e stile. Gli orologi Eichmuller sono realizzati con materiali di alta qualità, come acciaio inossidabile, pelle e vetro minerale. Inoltre, la maggior parte dei movimenti degli orologi sono di origine giapponese o svizzera, garantendo affidabilità e precisione. La scelta dei materiali e dei movimenti conferisce agli orologi Eichmuller un'elevata qualità, che li rende altamente competitivi sul mercato degli orologi di fascia medio-alta. Eichmuller è un marchio riconosciuto a livello internazionale, e i suoi orologi sono venduti in tutto il mondo. Grazie alla vasta scelta di modelli e alla qualità dei materiali, gli orologi Eichmuller sono molto apprezzati dai collezionisti di tutto il mondo, che li considerano un must-have per chi ama gli orologi di qualità. In conclusione, gli orologi Eichmuller sono un'ottima scelta per chi cerca un orologio di alta qualità a prezzi accessibili. La vasta scelta di modelli e stili consente di trovare l'orologio perfetto per ogni esigenza, dal design minimalista ed elegante, ai modelli più sportivi e resistenti, fino ai modelli alla moda e innovativi. Grazie a tutti.